Con questo lungo ponte del 2 di giugno ne approfitterà per andare da qualche parte o rimarrà qua in zona? In zona, mare, matrimoni, un po' di feste insomma qui nei dintorni. Quindi un po' tutto? Sì, un po' di tutto. Soprattutto il matrimonio domani ce l'ha? No, il matrimonio domenica, domani mare. Sì, se tempo permette un po' di relax che ci vuole, poi dopo tutto il periodo scolastico, burocrazia di fine anno, basta, un po' di riposo. Non ho ancora organizzato niente. Hai visto le belle giornate di sole, si può andare a fare anche un giretto al mare? Ma quello sempre, tutti i giorni. All'ombrellone oppure? Ombrellone, ombrellone, è comodo se stai qua. Forse vado al mare se c'è bel tempo. Tu sei di Fano? Sì, sì. Con gli amici? Sì, sì, al mare andrò con gli amici molto probabilmente. Siamo austriac. Quindi passerete qua dei giorni per vacanza? Sì, sì. Vi piacciono queste zone? Molto. Io purtroppo devo studiare, ho l'esame. Che classe fai? La quinta? Quinta, sì. Qui a Fano? Sì, faccio quinta al liceo di scienze umane. Quindi un weekend di studio? Sì. Non andrai neanche al mare? Penso di no, però se riesco volentieri, ci vuole. I miei programmi sono lavorare, perché domani siamo aperti e quindi niente, adesso stasera penso di stare in girata nel Fanese o nei dintorni. Invece si va a ballare o no? Si va a ballare, ci sono parecchie feste, parecchi eventi, soprattutto zona Lido. Un giro sicuramente si fa, si fa. Vado a Firenze. Quanti giorni stai? Solo domani. Come mai questa gita giornaliera? Perché me l'ha regalato le mie migliori amiche per il mio compleanno. Un bel regalo. Un bel regalo, sì. Tu invece? Allora, stasera vado in discoteca, quindi domani penso che andrò a fare un po' di shopping per l'estate. I prossimi giorni mare? Sì, mare, da sabato fino... mare, sì. L'ombrellone? Sì. Io domani penso mare, la mattina, poi dopo devo andare a fare le trecce, rivedere un attimo il look. Peraltro domani e dopo domani, ultimo giorno di scuola? Ultimo giorno di scuola, sabato. Voi avete gli esami, no? No, no, no. Quindi proprio festa fino a settembre? Sì. Sto già lavorando, quindi... Quindi hai tutta la giornata impegnata, quindi si lavora e basta? Praticamente sì. Ovviamente pomeriggio al mare, quando si riesce, sperando che non faccia troppo caldo. Invece le vacanze quando le farai? Probabilmente a fine agosto, ci avrò due settimane libere e ho un prospetto di fare un viaggio. Dove? In Calabria. Ma in Calabria? Perché ho la mia ragazza lì, quindi vado a trovarla, andiamo al mare. Stasera si esce e domani giornatona o al mare o in campagna o in giro. Dove andate stasera? Eh, di Ido, centro, più o meno. Quindi rimanete comunque qua per Fano? Oppure a San Lazzaro, dipende. Sì, comunque Fano. E a ballare invece ci si va in questo periodo oppure no? Eh, in questo periodo un po' di meno. E' caldo, quindi evitiamo, stiamo all'aperto. Perché sono chiuse. E' caldo. Grazie per la visione!